buongiorno sono le 10 di mattina ragazzi non sono a casa io sono vestita da casa ragazzi allora sono venuto a farmi i capelli mamma ma può sapere andare un po fuori vuoi andare fuori tu hai chiuso e vieni dai vieni fuori no ragazza ve lo devo far vedere e chiudi andò bello lo bevi dopo il succo è brava lasciami le chiavi fuori io mi siedo un po fuori ho iniziato il vlog direttamente da qua ragazze mamma mia ma c'è troppo vento c'è stato troppo vento c'è sporco amore mio dobbiamo pulirlo moglie lo diciamo alla nonna peccato è chiusa perché chi è chiusa ragazzi mamma guarda anche sul condone c'è acqua eh lo so ma è l'acqua sporca è l'acqua sporca mia figlia è stata male ha vomitato che neanche ve lo dico e secondo me sto avendo la stessa cosa sua però io ho solo fastidio non sto né vomitando né altro quindi boh mamma mia fa caldissimo fa proprio caldo ragazzi vabbè ragazzi ci aggiorniamo magari dopo era giusto per farvi vedere che ero qua da mamma per farvi vedere perché comunque sabato non è uscito nessun video e niente ragazzi ci aggiorniamo dopo ragazze come mettere disordine in due minuti allora ho fatto la tinta perché poi venerdì ho il matrimonio quindi ne ho approfittato e ho fatto la tinta le ho affonati poi più tardi magari posso o la piastra lo rilascio così vediamo comunque ho fatto la tinta ma il mezzogiorno è aspettate che guardo dal telefono il mezzogiorno è un quarto ora vado a spappare ragazzi perché ho fame eh niente non mi ero fatta vedere più sono belli lisci ho messo i riflessi ci sono ancora sono belli sono proprio così sono proprio belli così si vede che ho fatto capelli nulla ragazze ci aggiorniamo dopo così poi dopo lavo il piccolo monello ehm faccio ehm forno i capelli a mia mamma e poi molto probabilmente mi viene a prendere il mio compagno e ehm dobbiamo andare a fare shopping per lui per il matrimonio ehm nulla domani vado a fare le unghiette ehm ho deciso di fare un french semplice ehm proprio per la rivista del matrimonio dopo il mese prossimo vediamo magari mi sbizzarrisco un po' di più nulla ragazze ci aggiorniamo più tardi io vi lascio un buon pranzo anche se voi vedrete ehm questo video credo sperando di riuscire o martedì quindi domani ehm o giovedì comunque alle 14 ma io vi lascio lo stesso buon pranzo dopo ragazze allora parlo piano perché sono le 3.10 e il mio papà sta riposando un pochino allora io ho finito poco fa di ufonare i capelli a mia mamma fare la piastra ora mi sono sdraiata 5 minuti sul divano c'è mia figlia che sta facendo la doccia tra poco lavo il piccolino e poi molto probabilmente mi devo preparare anch'io perché devo andare ehm come vi dicevo stamattina forse devo andare ehm in giro per i negozi ragazzi mi sento un po' fastidio alla panso i miei figli hanno avuto il virus intestinale e e ora ho un pochino di da ieri un pochino di fastidio anch'io però per fortuna non ho grandi sintomi queste grandi cose c'ho solo un po' di mal di pancia dimmi mamma e fai la mangiare si e e nulla ho un po' di fastidio ragazze mamma mia ho un mal di pancia in questi giorni mi deve venire pure il ciclo mamma niente ragazze era giusto per farmi ledare niente ci sentiamo più tardi ragazze io sono ancora da mia mamma sto aspettando che arriva il mio compagno a prendermi mia mamma è alle prese con il succo di ti posso inquadrare oppure no no quando lei è vestita da casa manca morì comunque sta sta facendo succo di frutta alla albicocca con le albicocche dell'albero di belle fresche io intanto me ne vado un po' fuori mamma chiudi per favore chiudi ah ragazze c'è un bel venticello qua si sta benissimo allora di uscire non esco perché il mio compagno è stanco quindi domani sono impegnata devo andare a fare le unghie quindi non scendo mercoledì devo mettermi assolutamente a stirare per il matrimonio quindi devo stirare tutto quello che devo stirare per il matrimonio giovedì pomeriggio ho i colloqui o meglio penso siano in presenza non lo so praticamente il pagellino è la pagella insomma della grande e venerdì sono di matrimonio quindi non penso questo non so se uscirà di giovedì questo vlog o se riesco a montarlo per domani ma non ne ho la più pallida idea sinceramente non so per sabato se riesco poi a registrarvi qualcosa quindi mi sa che questa settimana avrete solo questo video e poi ricomincerò dalla prossima non lo so ragazze niente io chiudo qua questo vlog perché tra poco vado a casa il mio compagno vi ho detto che è stanco quindi non mi metto col telefono tanto noi siamo già tocciati e tutto quanto quindi mi rilasso e mi godo la famiglia niente ragazzi io vi mando un bacione grande grazie per essere stati in mia compagnia grazie per aver visto tutto il video vi ricordo di lasciare un like se il video vi piace lasciare un bel commentino come fate sempre perché siete così carine ragazzi vi ringrazio di iscrivervi al canale se siete nuove ne approfitto per dare il benvenuto a chi si è iscritto da poco e vi ricordo che nell'info box trovate tutti i link diretti per i miei social quindi instagram e tik tok ecco nulla ragazze io vi rimando un nuovo bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao